Chi è? E in un nuovo Gado che mi ha fatto? Ma, ma io non voglio ammire. Mi sono andati a fare l'esplazimento? Mi sono andati a vedere. Sì, non! Non vanno a fare l'esplazimento. Non vanno a fare l'esplazimento! perché? anche i cani quando i cani sono un microfono che non mi piace si ma è molto successo la parola africana tu riesci a studiare Ciro tu non è a studiare, noi tra oggi e domani ci ripetiamo e tu che voglio? non ti nemmeno, hai ragione allora ci rimane sulla questione stessa non è chiaro, non lo ha vestito a voi e scrive Ciro, ma non mi ha mai fuori questo mi ha mai paura di niente ma non posso, mi ha già detto, è fatta tanto l'ha finita dalla fila a me allora ci avremo, ma non va? fa cosa poi? guarda, va giù ma non posso una cosa cosa? ma non posso ma non posso ma non posso ma non posso ci sono un po' che fai Sì, ma mai ti fatti già d'arte, ma... Non ho già io, sennò dove va, finalmente. Sì, adesso non mi è chiaro, non vedo che si diventa male. Posso? Toglio! Sì, ma molto sono cessato. Qua notte mi piace per subito. Sì, mi piace per subito. Sì, ma molto sono cessato. Sì, ma non posso, non è genio. A genio è a mezzo. Tutta posso. Ma non posso, non è... Non mi è chiaro, non la testa di a boccia. Sì, scrive in giro. Alla mano è un lavoro che oggi senta, non fa bene. Ma non posso, se vado a lasci. E' gatto? Quando gatto? E' gatto, non mi è chiaro, non la testa di a boccia. Sì, ma molto sono cessato. Sì, no... Sì, no... E' dumme! Sì, e mi vuotosa o ce sa dai? Ehm... E non chi mi dica gatto. Sì, in frontale. Ho vinto molto a il seniore. Sì, mi vuoto... Am ho affinicalato invece che scrive ma è chiaro si mandare si mandare è morti stai senza un giudice stai senza un giudice stai senza un giudice ahah 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 ahah